Ciao runners e ciao amanti della corsa, io sono Lorenzo Maggiani e questo è il podcast da 0 a 42. Prima di iniziare con una puntata pensierosa, un enorme ringraziamento a Laura Aravani che è entrata a far parte del novero dei miei patrons. Grazie, grazie Laura, davvero. Ma adesso veniamo a noi. Titolo dell'episodio un po' provocatorio, si può vivere senza correre, ma ovviamente non l'ho fatto per il clickbait o cazzate del genere, tuttavia credo sia un tema complesso che fa quasi paura per certi versi per chi come me e come la stragrande maggioranza di voi è abituato a correre con costanza ed è diciamo quasi drogato di running, può essere un problema pensare a questa cosa, ma andava affrontato prima o poi qua dentro con tutte le luci ed ombre del caso e con totale trasparenza da parte mia. La verità è che questa domanda appunto potrei vivere senza la corsa me la sono autoposta più volte nel corso di queste ultime settimane dove sto correndo a singhiozzo per via della famigerata bandelletta ileotibiale e così tra le altre cose vi do anche un aggiornamento sulle mie condizioni dato che dopo quell'episodio di metà gennaio appunto sulla bandelletta non l'ho più fatto, anzi partiamo proprio da questo. Quando appunto ho registrato quella puntata circa un mesetto e mezzo fa ero piuttosto ottimista, credevo di essere ormai recuperato quasi al 100%, tant'è che nelle settimane successive avevo anche corso in due weekend in fila per più di due ore, anche con qualche leggero dislivello, tipo 300-400 metri, nulla di che ma sicuramente bene rispetto agli inizi e in quelle uscite non avevo avuto nessun problema, nessun fastidio, solo che probabilmente ho chiesto troppo al mio fisico e pochi giorni dopo ho ricominciato ad avere dolore rinfiammando quindi la bandelletta di nuovo e tornando praticamente al punto di partenza. Diciamo che ho imparato la lezione sulla mia pelle, come spesso accade in questo sport la fretta è cattiva consigliera, così mi sono messo l'anima in pace abbastanza definitivamente e ho deciso di prendermela molto più comoda, con qualche giorno di riposo totale dalla corsa senza proprio correre e nuovamente alcune sedute da Filippo il mio fisioterapista, tanto ormai a questo punto la prima parte di 2024 è andata abbastanza a farsi benedire e comunque anche fossi stato sano del tutto non avrei avuto modo di fare chissà che cosa, dati molti impini personali che ho e avrò in questi mesi al di fuori del running, che comunque mi stanno portando via e mi porteranno via tempo ed energie. Tanto vale concentrarsi ora sul recupero e prendersela con maggiore calma, senza forzare inutilmente, anche perché fortunatamente non mi ero ancora iscritto a nessuna gara, quindi non c'è neanche motivo di avere fretta. E così ho ricominciato a corricchiare giusto da qualche giorno dopo una breve pausa, comunque non lunghissima, ma stavolta davvero pochi 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 chilometri, con invece delle dosi belle lunghe di potenziamento e stretching nelle giornate di non corsa. Giusto per la cronaca sono passato da settimane da quasi 100 km complessivi di fine 2023, con anche del dislivello significativo, a 2-3 allenamenti a settimana da 5-6-7 km l'uno, perlomeno ora in questi giorni, poi ovviamente sperando di migliorare andrò anche ad aumentare ma con estrema gradualità. E proprio appunto per aver corso così poco con tante giornate di non allenamento, ho iniziato ogni tanto a pormi la domanda di apertura episodio, cioè nel caso non potessi più correre proprio in assoluto come la vivrei. Ed in generale per noi runner abitudinari e drogati di corsa, si potrebbe vivere senza running e come sarebbe? Ovviamente non posso rispondere per tutti quanti, ognuno ha il proprio carattere, ma quantomeno mi sono interrogato su me stesso. Intanto devo dire che queste settimanelle di attesa e leggerissima ripresa sono state un po' frustranti, lo ammetto tranquillamente, non tanto per non poter correre che è durato proprio poco, ma più che altro per il saper di doverlo fare con un filino di ansia, cioè con la paura che torna il dolore nuovamente e quindi corri un po' cercando di capire come stai ogni minuto, ogni momento. E quando si corre in questo modo, a prescindere dal chilometraggio che si fa, non te la godi poi così tanto. Però dopo i primi giorni un po' di scazzo, di demotivazione anche dovuti a questa cosa, mi sono quasi subito messo l'anima in pace, consapevole che la pazienza fosse l'unica strada percorribile. Ciò di cui sto sentendo maggiormente la mancanza in questo periodo non è tanto il correre, anche perché seppur poco e lentamente, come vi dicevo, qualcosa sto facendo. Ma non potendo fare cose lunghe e soprattutto senza dislivello sostanzialmente, il trail mi sta mancando, quello sì. Tant'è che non ho perso occasione perlomeno una domenica qualche giorno fa di farmi una passeggiata per boschi, non è la stessa cosa, ma mi sono reso conto con questo stop forzato che quella sensazione di pace e tranquillità dove posso staccare completamente la spina non la riesco proprio a vivere uguale uguale su strada, corso o camminata che sia. E lo dico in tutta sincerità, sto anche provando un pizzico di invidia quando vedo sui social ad esempio gli altri correre e fare gare, con chilometraggi e dislivelli che io in questo momento posso solo immaginarmi. Ma ripeto, non sto sentendo troppo la mancanza della corsa come mero gesto atletico per intenderci, quanto invece le sensazioni che mi sa dare, specialmente su trail, quelle sì assolutamente. Che poi lo so benissimo che quando sto bene e mi cappotto di ripetute o corse lunghe lunghe non è proprio sempre tutto rose e fiori come invece ci si immagina raccontandolo spesso. E anzi ci sono degli allenamenti che in realtà ti godi fino a un certo punto o non te li godi per nulla, che sono principalmente sofferenza e fatica. Ma mi manca un po' anche quello perché pure le sedute così di questo tipo fanno parte del pacchetto completo. Non mi ci vedo, per come sono fatto io, a correre senza avere l'idea in testa di far bene. Mi spiego meglio, anche se questo concetto l'ho già espresso in passato ed è spesso stato anche tema di dibattito e divergenza di vedute. Divergenze anche giuste, onestamente, perché è doveroso che ognuno la viva come meglio crede. Personalmente penso che sia bello correre comunque per cercare un qual certo obiettivo, che non significa per forza vincere la gara, ma anche solo per battere se stessi o migliorarsi. E se non si è nella condizione in quel momento di migliorarsi, quantomeno farlo al massimo delle proprie capacità attuali. Poi ovviamente è anche possibile correre solo come passatempo e farlo godendoselo ugualmente ci sta ed è anche bello che ci siano persone che la vogliono vivere proprio così. Io però ho altre idee, un altro approccio, altre mire, tra virgolette. Che ripeto, queste mire non sono di certo quelle di vincere e manco andarci vicino, non c'è pericolo. Non ne ho le capacità e mai le avrò, nemmeno da sano. Anche perché non sono comunque di quelli ossessionati a tutti i costi dai tempi e dalle performance. Ma mi piace però fare le cose in questo modo, con un certo criterio, impegno, serietà per così dire. C'è una sottile ma sostanziale, secondo me, differenza tra il fissarsi con i tempi e i numeri ed il farlo invece con coscienza di ciò che si sta facendo. Io sono di questa seconda parrocchia. Che poi è come ho sempre affrontato lo sport, non solo il running, anche quando ne facevo altri, in modo agonistico sempre tra virgolette, competitivo seppur con tutti i limiti del caso, ossia del livello in cui giocavo, sia proprio delle mie capacità, quindi anche perdendo, anche essendo scarsissimo, ma ugualmente mettendoci il massimo che potevo. In questo momento tuttavia sto un po' correndo alla minchia, a caso diciamo, ma solo perché non posso fare sedute di qualità senza poi sapere come starò fisicamente tra qualche giorno. Devo gestire queste sessioni. Pure questa cosa la desidererei e al momento la ossolo parzialmente, cioè il sapere dove andare, verso che direzione. Ok, so che l'idea è di gestire i carichi e guarire, stare meglio, ma non è la stessa cosa di preparare la gara X. Ma tornando all'argomento principe e affrontare finalmente l'elefante nella stanza, potrei vivere senza corsa. Prima di registrare in questi giorni ci ho un po' riflettuto e alla fine la risposta è sì comunque, perché conoscendomi troverei qualcos'altro. Magari non sarebbe così per tutti, questo non lo so, ma io, per come sono fatto di carattere, so che mi impegnerei successivamente in qualche altra attività, tipo la bici, forse gravel o un altro sport, o la camminata. Camminerei un sacco, che è una cosa che mi piace molto anche quella. Oppure tornerei a giocare a basket, che ci sono ancora molti miei ex compagni che proseguono a giocare, seppur in campionati amatoriali dove il livello è sotto zero, ma anch'io sarei a quel livello. Già facevo schifo quando era allenato, figuriamoci ora che sono tanti anni che non gioco. Insomma, come diceva la carissima Laura Ravani, manco a farla apposta, citata in apertura, quando era stata ospite qua da me neppure troppo tempo fa per una chiacchierata, si troverebbe un'altra idea prevalente, cioè un qualcosa di personalmente accettabile, comprensibile, realizzabile, ma che abbia comunque in qualche modo un ruolo privilegiato rispetto ad altre priorità. Del resto, nella mia vita ho sempre bene o male fatto costantemente sport, a qualsiasi età. Ho contestualmente sempre anche fatto piuttosto cagare, ma questo è un altro discorso. Quindi sì, potrei vivere senza corsa, anche se al tempo stesso i primi periodi in attesa di trovare un'altra attività a me confacente sarebbero tosti, inutile negarlo e nascondersi dietro a un dito. Anche perché il running attualmente è spesso al centro dei miei pensieri, è inevitabile. Sulla corsa ho investito parecchio, ho un podcast barra canale youtube, un gruppo telegram, patreon, il coaching, tante esperienze e soprattutto conoscenze. Il lato umano è anche lui importante ed è un bel lascito di questi anni di podcast. Certo, è vero che non smetterei di colpo di parlare con tutte queste persone, ma certamente avrei meno motivazioni e anche argomenti in comune, banalmente, e se vogliamo meno voglia non per loro, per carità, ma perché mi sentirei un po' in difetto e in un certo senso invidioso del vederli correre e parlare di un argomento che per me diventerebbe quasi come un tabù. Perciò la prenderei sinceramente male all'inizio, sono onesto, ma poi dopo troverei un altro sfogo, ne sono consapevole e quantomeno abbastanza certo. Come si suol dire, quando si chiude una porta si apre un portone. Troverei senza dubbio altre soluzioni per fare sport e rilassarmi. Non è infatti la corsa in sé a fare la differenza, seppur ora io utilizzi quella e mi piaccia quella, eppure parecchio. Ma il noccio della questione è il fatto di avere del tempo per me, per fare attività fisiche, per sfogarmi, per trovarmi nella natura quando possibile, per sputtanare allegramente altri soldi. Un altro modo di vivere in modo attivo lo saprei trovare perché per fortuna non esistono solo il running o il trail running. Troppe volte ci fissiamo con qualcosa, lo faccio anch'io ovviamente, ma non si considerano altre possibilità che invece potrebbero piacerci ugualmente se non addirittura di più. Appunto io prima di iniziare a correre mai avrei pensato di diventare un runner così costante, la corsa mi faceva cagare, figuriamoci. Allo stesso modo troverei senza ombra di dubbio un altro sport e un altro modo di centrare il mio benessere personale. La natura umana è fatta per progredire ed evolversi, ed anche questo eventualmente sarebbe per me un modo per farlo. Quindi sì, potrei vivere senza corsa, seppur all'inizio mi incazzerei un attimo. Per fortuna, e così tolgo un po' di cupezza di fondo comunque che c'è in questo episodio, ad oggi non ho assolutamente intenzione di fermarmi e di smettere di correre. So che ci vorrà ancora tanta pazienza per tornare a farlo come prima, ma sono certo che recupererò, è la mia ferma intenzione attualmente. Di conseguenza questi miei pensieri odierni non hanno così tanto senso di esistere, perlomeno per ora, anche perché podcast o non podcast la mia idea è di correre ancora per tanti 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 anni, magari meno chilometri, più lento, chi lo sa, ma non di certo di concludere con questa attività, facendo i dovuti scongiuri per quanto riguarda problemi fisici che potrebbero essere più gravi di una bandelletta elotibiale infiammata. Provando a chiudere con una nota di ottimismo e facendo vedere che abbiamo studiato, già Dante nella Divina Commedia faceva dire a Ulisse la celebre terzina che, sicuramente avete sentito mille volte in giro, considerate la vostra semenza, fatti non foste a vivere come brutti ma per seguire virtù e canoscenza. Ecco appunto, Ulisse qua esortava i suoi compagni a non temere l'ignoto e anzi gli spingeva a mantenere sempre viva la curiosità e la sete di sapere, ed una cosa che fondamentalmente è sempre insita nell'essere umano, da tutti i tempi, da sempre, altrimenti saremmo ancora l'età della pietra. E quindi magari roncorrerei più, ma reagirei e farei dell'altro, si va avanti, la vita prosegue e le soluzioni alternative a volte sono anche meglio di quelle che le hanno precedute. Fatemi sapere cosa ne pensate voi su questo tema spinoso, voi ci vivreste senza correre, come sarebbe, come potrebbe essere questo scenario? Come sempre mi trovate su Telegram al mio account Chioccio a Lorenzo Maggiani, su Instagram e via mail, trovate comunque tutti i miei recapiti ad un click di distanza nelle notte dell'episodio. Lasciate anche recensioni a 5 stelle su Spotify e Apple Podcast e condividete questa e le altre puntate con chi reputiate potrebbe essere interessato. Infine, se volete sostenere questo progetto potete farlo tramite Paypal o BuyMeACoffee per una donazione liberissima, una tantum. Oppure, per chi volesse fare qualcosina in più, con una donazione invece ricorrente, mensile, così come ha fatto Laura, che ringrazio ulteriormente, c'è il Patreon. Si può partire anche da un solo singolo eurino al mese e anche lui per me da solo vale tantissimo. Anche in questo caso in descrizione ci sono tutti i link. Direi che per oggi è veramente tutto. Cari runners, lo so che può sembrare strano detto da me, ma si può vivere anche senza corsa. Ci sentiamo alla prossima puntata.